Andrò a vederlo un dì, in cielo patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederlo un dì, al cielo, al cielo, andrò a vederlo un dì. Nel secondo mistero glorioso, contempliamo Maria che fa visita a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci inturre in pentazione, ma liberaci dal male. Padre Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno Gesù.